A Bruxelles farebbero meglio occuparsi di alto, visto che per qualche burocrate di Bruxelles il voto dei cittadini è quasi ininfluente, visto che stanno preparando lo stesso pacchetto o pacotto come se non avessero votato italiani, francesi, tedeschi. Se così fosse mi sembrerebbe davvero una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che hanno votato, lasciano che l'Italia cresca, corra, punti sul merito. Questa è l'autonomia, non è una vittoria della Lega, è l'applicazione di quello che la Costituzione per scelta della sinistra prevede e quindi è una possibilità per le Regioni di gestire a livello locale quello che oggi lo Stato non riesce a gestire. Faccio un esempio molto concreto, i beni culturali. Se le Regioni del Sud volessero gestire a livello locale gli straordinari beni culturali che hanno potrebbero guadagnare di più, incassare di più, offrire più lavoro e tenere sul proprio territorio più soldi. Quindi il bello dell'autonomia è che non c'è nessuno che ci perde un euro. Se qualcuno non se la sente a nord come a sud, rimane nell'assetto di oggi dipendendo dallo Stato centrale in tutto e per tutto, fa strano che la sinistra su questo abbia cambiato idea.